L'espettacolo è inizio! Il mio figlio è inizio! Quello che le ragazze stanno... Non è un altro... E poi si può lavorare... Che cosa sei? Speciale! Vuoi vedere un po' di te! No, che amo, amico! Resta dove sei! Io non mi muovo! Ok, vieni fuori! Ovunque sei! Non ho paura! Credi di farmela? È brutto! Pezzo di messa che non sei altro! Ehi, non era neanche una gonna! Solo un colpo d'arma da fuoco! Potrebbe essere uno di noi! Non è possibile! 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 Sì, è un caricatore! Ah, si è inceppato! Ragazzi, uccidetevi! Ragazzi, uccidetevi! Quel figlio di Troia è fatto! Uccidetevi! Un assassino! Davanti, uccidetevi! Sì, uccidetevi! Guari! E' un viaggio! Capante, togliete via!